Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci qua di noi insieme per un'altra fantastica avventura per Di Tutto Un Po' Allora, oggi come promesso vi volevo parlare, farvi un pur parler dell'iPhone 8 se avete visto il video precedente di Di Tutto Un Po' ora saprete che ho abbandonato iPhone X per, sfruttando un'offerta molto interessante con il contratto della 3, ho deciso di ritornare all'iPhone 8 e vendere iPhone X e quindi se siete curiosi di sapere cosa ne penso di questo downgrade e se mi trovo comunque bene aspettate la sigla e ci vediamo tra poco Eccoci di ritorno Allora ragazzi, come vi dicevo, ho dovuto abbandonare iPhone X per via di quel graffio e comunque sia, mi sono resofonto che il prezzo era veramente troppo eccessivo rispetto a quello che effettivamente il dispositivo dava e quindi ho deciso di ridare indietro, di prendere i soldi totali, quindi l'ho pagato zero praticamente, costo zero e ho approfittato di questa offerta, di questa offerta grazie alla 3 che praticamente pagando quello che pagavo prima ho comunque l'iPhone 8 e quindi alla fine si può dire che l'impatto è pagarlo zero, tra virgolette e quindi mi trovo bene da questo punto di vista e allora, il tornare indietro inizialmente l'impatto è stato un po' brusco vi spiego, abituato ormai al display dell'S8 e quindi abituato al display dell'iPhone X sicuramente tornare indietro mi ha dato fastidio però, una volta riabituato al formato 4.7 pollici alla fine mi ci sono riadattato anche perché voi considerate che con l'iPhone X molte applicazioni ancora non sono ottimizzate e quindi lo usate di grandezza come se fosse lui lo schermo quindi, sì, dopo l'interfaccia generale, i film, eccetera, no, chiaramente però, alla fine non è stato proprio l'impatto così brusco ma mi ci sono riabituato è chiaro, mi mancano tanto i neri infiniti di iPhone X il nero infinito, il contrasto infinito cioè il nero infinito, scusate il nero puro e il contrasto infinito appunto del display AMOLED mi manca, chiaro, mi manca però, ragazzi, è sempre quel discorso 600 euro in più per poter avere un display del genere non, secondo me, non vale la spesa ecco, attualmente spero in futuro che magari usciranno, abbasseranno i prezzi, eccetera poi vediamo comunque però per adesso è così allora, devo essere sincero le prestazioni per come uso io il telefono mi sembrano identiche apertura delle app, gestione delle risorse mi sembra molto uguale io non ho detto oddio, quanto è lento iPhone 8 anzi, iPhone 8 si comporta veramente molto bene è sicuramente più resistente nel senso che il vetro posteriore non si è graffiato minimamente fino adesso e è ugualmente quello frontale quindi sicuramente per i materiali vabbè, è meno premium non c'è scocca in acciaio, eccetera però per i materiali la robustezza sicuramente hanno lavorato molto bene con iPhone 8 io mi ci trovo bene ritornare al Touch ID non è stato così grave anzi, il Face ID aveva come vi ho mostrato nei video precedenti aveva anche qualche difettino quindi poter sbloccare con il tasto Home e ritornare alle origini non è stato un problema ecco, francamente parlando iPhone X deve ancora perfezionare secondo me alcune caratteristiche alcune gesture e quindi magari lo rimandiamo ad iOS 12 rimandato ad iOS 12 chiaramente iPhone 8 funziona da Dio e funziona perfettamente tutto mi trovo bene la batteria, devo essere sincero sono rimasto molto molto soddisfatto per la batteria perché arrivo benissimo a sera sempre con un 30-35% di carica residuo anzi, mi stupisco che sia un iPhone 8 vedendo addirittura come sapete l'iPhone X ha una batteria ancora più grande quindi, però le medie sono lì devo essere sincero le medie sono lì di batteria quindi mi ha sorpreso devo essere sincero mi ha veramente sorpreso e tutto il resto fotocamera, video sono eccellenti la, come vi dicevo la seconda fotocamera per come uso io il telefono non è che mi manca proprio di tanto la gesture quella per fare perché chiaramente come sapete lui non ha di serie la modalità di tratto quella un po' particolare per fare il bianco e nero perché è una beta ed è solo disponibile su iPhone X ma vabbè l'avrò usata due volte cioè una volta per farci il video per farvi vedere le foto eccetera e un'altra volta così per puro divertimento quindi non la uso sostanzialmente il resto le foto lui le fa veramente bene ma io sono sempre stato soddisfatto delle foto dei vari iPhone devo essere sincero e quindi ecco sono soddisfatto perché comunque sia il dispositivo funziona perfettamente mi mancano un po' alcune cose appunto lo schermo un po' più grande queste cose però il dispositivo devo essere sincero la differenza reale tra un iPhone X e un iPhone 8 è solo il display ragazzi tutto il resto funziona perfettamente sì abbiamo il Face ID ma il Face ID ragazzi qui abbiamo il Touch ID anzi per alcune cose è più rapido proprio perché voi premete e si apre la pagina poi vi voglio far vedere una cosa molto carina vi voglio far vedere come ho lo sfondo di iPhone X su iPhone 8 che non si può avere però avendo fatto il backup di iPhone X e ristallato dal backup ce l'ho e quindi sono contento perché secondo me lo sfondo dinamico di iPhone X è molto carino è chiaro non ha senso utilizzarlo ha senso utilizzarlo su un iPhone X per risparmiare la batteria ma qui non farebbe differenza però è carino è simpatico e ve lo segnalo se volete attivarlo dovete avere un iPhone X farci il backup e poi installare il nuovo backup su un iPhone più vecchio a quel punto ce l'avete e quindi ecco io sono soddisfatto il dispositivo mi ci trovo bene non ho nulla da segnalare pecchie da segnalare devo essere sincero anzi sicuramente lui è l'evoluzione perfetta dell'iPhone 7 grande evoluzione dell'iPhone 7 e quindi sono contento sono contento aspetto con ansia aspetto con ansia vedere un po' le novità di casa Apple per capire se uscirà questo benedetto SE 2 con il form factor dell'iPhone X però chiaramente più piccolo se uscirà appunto ma quello lo scopriremo probabilmente solo a settembre se uscirà questo benedetto iPhone 9 o iPhone X 2 o chiamiamolo come vogliamo dove spero Apple abbasserà i prezzi dell'iPhone X e per riadeguarli agli iPhone standard quindi intorno agli 800 euro spero e si parla e si vocifera dell'arrivo anche di questo iPhone X Plus quindi un display grande all'incirca come da 6 pollici grande all'incirca 6 pollici 1 forse o 6 pollici 2 grande come all'incirca tipo Note 8 e staremo a vedere io ecco spero tanto che Apple quando farà uscire questa nuova generazione di iPhone abbasserà l'asticella del prezzo la riadeguerà dato che non è più novità quindi la riadeguerà al normale costo di un iPhone magari certo magari non con materiali premium tipo l'acciaio attorno come abbiamo visto perché comunque l'iPhone X è un iPhone di di anniversario no? è un'edizione speciale quindi è chiaro non rivedremo un iPhone X sempre appunto con questi con questi bordini in acciaio eccetera però vedremo almeno a parer mio un iPhone 9 o iX2 chiamiamolo come vogliamo molto più simile magari in alluminio però sempre form factor da 18 noni e questo per me sarebbe importante ma non tanto il 18 noni vi spiego il 18 noni mi ha un po' deluso perché molte app non sono ottimizzate soprattutto i giochi quando giocate in 18 noni è semplicemente il gioco a 16 noni che viene riadattato ma riadattato solo per i bordi ma non è che l'interfaccia viene modificata quindi questo 18 noni attuale è un po' una presa tra virgolette per i fondelli è utile quando si vedono contenuti multimediali ma quando si va a usare il dispositivo direttamente alla fine non è che sia questo grandissimo vantaggio di schermo almeno a parere mio quindi ad esempio io avrei preferito un 16 noni iper ottimizzato di cornici un po' più grande piuttosto che un 18 noni che almeno è standardizzata in 4 factor ed è più facile appunto avere le app ottimizzate però vabbè è così non sono contrario a me piace il 4 factor del 18 noni con l'S8 mi ci sono trovato molto bene però con Android è già diverso perché le app erano già in automatico si riadattavano c'erano alcuni escamotaggi invece con con Apple è un po' più va un po' più a ridento questa cosa molte app sono aggiornate ragazzi io vi parlo dei giochi tipo Airstone per farvi un esempio Airstone non è adattato e io mi ci trovo male mi ci trovavo male con l'iPhone X non ho dato via chiaramente l'iPhone X per Airstone ma per una serie di motivi tra cui anche questo ecco comunque ragazzi spero che il video vi sia piaciuto di nuovo iscrivetevi al canale aiutatemi a crescere posso crescere sempre solo grazie a voi e noi ci vediamo la prossima volta per un altro video ciao a tutti ragazzi grazie a tutti